Questo è il succo dell'esperimento ed è riuscito particolarmente bene. Anche adesso ogni tanto ritrasmettono questa. Bella signora, guarda l'orologio, allora smetto di parlare perché comincia a venire tardi, no? Sì, sono già le 10.05. Allora dico solo questo, che dopo la radiofonia mi sono occupato molto di televisione, cinema, opere liriche, ho messo in scena tante opere liriche, anche alla Scala. E veramente, adesso lo dico al signor Console, la prima volta che ho messo piede sul palcoscenico della Scala, che stavo per varcare la porta che conduceva sul palcoscenico, mi sono detto, porca miseria, io vengo dall'ottavo distretto da un'oscura viuzza di Budapest e qui hanno camminato Verdi, Puccini, Toscanini. Che fortuna che ho avuto nella mia vita. Le giuro che ho pensato a questo. Mi è venuta in mente l'Ungheria, la via in cui sono cresciuto, eccetera. E però la seconda cosa che ho fatto senza essermi costruito un programma preciso alla Scala è stata un'opera ungherese. Il castello del principe Barba Blu di Bartók. E poi quell'opera l'ho rifatta ancora in un altro teatro qualche anno dopo. Quindi, senza aver raggiunto il livello di coscienza, io però ho continuato ad essere fedele a questa mia doppia appartenenza. E anche un giorno dovevo fare un saggio di diploma per gli allievi attori dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, così si chiama, ho tirato fuori una tragedia scritta da un grande autore ungherese dell'Ottocento totalmente ignoto in Italia. Si chiamava Imre Modac. E la tragedia dell'uomo si chiama il suo dramma. Molto interessante perché in qualche modo ha a che fare con Dante, in un modo molto lontano. E la storia di Adamo ed Eva, che sono disperati perché vorrebbero sapere il loro futuro. Allora Lucifero li addormenta e proietta alla loro mente in 13 quadri o 14, non mi ricordo precisamente, tutta la storia dell'umanità fino alla fine dell'Ottocento e anche dopo, che era il futuro per l'autore dell'Ottocento. E questo abbiamo fatto con gli allievi dell'Accademia, che erano e sono ragazzi calabresi, baresi, friulani, veneti, ma che non avevano una più pallida idea di che cosa potesse essere questa tragedia. Un critico di un giornale di cui non dico la testata scrisse ma perché rappresentare questi drammi dio-dipendenti? Questo ha scritto, perché appare anche Dio, cioè parla Dio ad Adamo ed Eva. Alla fine, quando hanno visto la storia dell'umanità, si vogliono ammazzare. E Lucifero dice sì, sarà così, anche più brutto. Insomma, vuole che si ammazzino. Invece interviene Dio e non si ammazzano. E dice perché rappresentare queste cose dio-dipendenti? Allora io sono andato dal direttore di quel giornale e ho detto questo qui è un dramma nazionale. Lei pensa che un intero popolo sia fatto di persone stupide e superstiziose e che questo non sia un grande lavoro di ingegno? Bene, se io scrivevo nello stesso giornale allora, se questo signore scrive ancora qui, io me ne vado. Detto così. E dopo ce ne siamo andati tutte e due. Molto eco. Però questo mi ha fatto veramente a ravevo. Ma come si permetteva a parlare di un popolo così? Eppure è un uomo intelligente, no? Ho presunto tale. Comunque, questo ve l'ho raccontato come episodi della mia vita e non mi ci sono fissato per niente perché non avrei nessuna voglia di continuare a pensare alla sciocchezza di queste affermazioni e sarebbe come tagliarmi in metà del cervello, no? Vabbè, comunque, dopo ho fatto ancora tante cose e sono andato a lavorare a Budapest, ve l'ho già detto, nel 98, fino al 2, quindi fino a dieci anni fa. Ed è stato un periodo molto bello perché io sono andato con la incredibile determinazione di rappresentare veramente l'Italia di oggi. Non solo Dante, non solo Petrarca, che gli ungheresi conoscono molto bene, ma quello che non conoscevano. E ho fatto un lunghissimo programma che ho presentato al Ministero. quasi sicuro che forse avrei, sarei riuscito a realizzare metà. Invece ho realizzato il doppio. E sono stato veramente felice. Quell'Istituto Italiano, il signor Consule, forse lo sa, anzi sono sicuro che lo sa, era diventato un centro culturale. Ed era quello che io mi auguravo che potesse diventare. Abbiamo collaborato con tante ambasciate, tanti altri istituti. Sono venuti, ho cercato di allevare anche un po' dei giovani frequentatori dell'Istituto. Insomma, è stato un periodo molto bello. Tra l'altro, dal punto di vista economico, durante questo periodo, questi quattro anni, la dotazione da parte del Ministero degli Esteri si è quintuplicata. miracolosamente, ma si è quintuplicata, con un accorgimento economico che mi ha insegnato un ragioniere e che ha funzionato. Cioè, una delle disposizioni era che se uno di questi istituti riusciva ad ottenere dei finanziamenti speciali per qualche avvenimento, quelli restavano poi nel bilancio degli anni dopo, per sempre. e io ho cercato di inventare cose così curiose da realizzare e così opportune per l'Italia per far vedere che cosa produceva eccetera, che difficilmente potevano dire di no. E una di queste era la mostra di Campigli. Ah, ho capito. Questo istituto era vicino alla Pia Palla. Mi scusi, perché poi il tempo passa. questo istituto era concluo i discorsi. La via Palla e poi aggiungo ancora una cosa. La via Palla è a 200 metri dall'istituto. C'è. È una via interamente costruita. Quella volta era periferia e c'erano questi campi non costruiti, non edificabili o non edificati, che si chiamavano Grund e non campo come diceva il traduttore del libro. Si chiamavano Grund con la parola tedesca. Quindi se l'autore ha scelto questa espressione allora anche il traduttore doveva sceglierlo invece non l'ha scelto. Grund e oggi invece sono casermoni e tra l'altro all'inizio della via c'è un bel una bella lapide di marmo scritta in italiano in occasione della visita di una classe di liceali italiani che era andata a visitare una ventina di anni fa forse qualche cosa di più la via par e ogni volta che io ci sono passato mi sono sentito inorgoglire per il fatto che i ragazzi italiani si interessassero si occupassero. Ultima cosa che vorrei dire il signore che aveva il mio libro forse se n'è andato no? se n'è andato me l'ha detto che le volevo chiedere però una cosa un secondo ma lei da ragazzo l'aveva letto il libro le piaceva i ragazzi della via pal cioè i ragazzi della via pal non solo l'avevo letto ma ogni tanto venivano degli attori anche del teatro nazionale venivano nella nostra scuola a recitare scenette da questo romanzo tanto era popolare no? ma almeno tre volte sono venuti nella mia scuola vero e smorti è una scuola nell'ottavo distretto intitolata un poeta che si chiamava vero e smorti un grande poeta dell'ottocento e venivano questa era la prassi allora a Budapest che gli attori ogni tanto venivano nelle scuole e recitavano questi famosi pezzi e siccome quel romanzo parla di ragazzi venivano a recitarlo vorrei aggiungere una cosa a proposito di questi ragazzi uno scrittore ungherese morto pochi anni fa ha scritto un romanzo tradotto in italiano dalla casa editrice E.O. che si chiama La scuola sulla frontiera Otlich che parla di ragazzi di quell'età della scuola media che però frequentano una scuola militare e quello che succede tra questi ragazzi cosa vuol dire questo si svolge prima della seconda guerra mondiale la compressione psicologica di questi ragazzi che si preparano a diventare ufficiali eccetera insomma è un bel libro che è un famoso autore di oggi Peter Esterhasi pubblicato anche in Italia in varie edizioni ha ricopiato a mano per intero tanto gli piaceva questo scrittore va bene questo volevo ancora dire a proposito che è un romanzo praticamente come questo dei ragazzi della via non finisce mai perché vengono altri altre menti che pensano allo stesso soggetto in un altro modo non al modo di Harry Potter tutta un'altra cosa e ultima cosa che visto che siete persone che si interessano della letteratura allora io vorrei interessarvi ma dico solo poche parole alla letteratura praticata da Giorgio Pressburger che pochi giorni pochi mesi fa ha pubblicato un libro che si chiama storia umana e inumana Bonpiani l'ho pubblicato che adesso sto presentando praticamente in tutta Italia e che è una versione molto ripensata e molto modernizzata della Divina Commedia solo che nell'inferno ci stanno quelli che hanno veramente vissuto l'inferno cioè che durante il corso del Novecento sono stati torturati infamati imprigionati ammazzati famosi personaggi scienziati artisti eccetera e anche personaggi di tutti i giorni e piccoli personaggi e questo sarebbe l'inferno che è il primo volume apparso già cinque anni fa da Bonpiani e che si chiama Nel Regno Oscuro e poi questo secondo libro che contiene due volumi in uno si chiama storia umana e inumana e c'è l'equivalente di quello che uno potrebbe considerare come il purgatorio cioè che parla di personaggi che nel corso del Novecento di tutte le nazioni anche ungheresi molti hanno subito una sorte simile ma la cui idea alla fine è prevalsa ed è stata realizzata anche qui uomini politici come Gandhi e scienziati scusate anche qui i piccoli personaggi quotidiani eccetera così come ha fatto anche Dante però non si parla di trascendenza di Dio di religione sì ma di quello che è successo realmente e nell'ultimo libro questa discesa nel mondo sotterraneo avviene con la guida del padre del protagonista del viaggiatore perché in quello che è stato il grande precedente della divina commedia cioè l'Eneide perché lì nel sesto libro dell'Eneide Enea scende agli inferi cercando suo padre per chiedergli come è morto e dove è seppellito e chi l'ha seppellito anche qui all'inizio del libro nel primo volume il personaggio cerca suo padre dentro di sé col quale sente di non aver compiuto tutti i discorsi che avrebbe voluto fare e così anche il fratello gemello e questa ricerca alla fine per mezzo di lunghe sedute prima di psicoterapia psicoanalisi poi autoanalisi poi la semplice fantasia a effetto lui ritrova il suo padre e a bordo di un automobile vecchia una vecchia Renault fa l'attraversamento di tutto l'universo dove incontra tutti buoni e cattivi di tutti i tipi uomini politici scienziati artisti eccetera perché il paradiso per me è questo la vita stessa nella quale vita per averla ricevuta dobbiamo essere grati e nella quale vita convive di tutto ma è così e quindi bisogna accettarla così com'è come mi diceva mia madre questo ci è dato e questo dobbiamo accettare e questo è il paradiso per me dappertutto dove ho presentato finora questo libro ha avuto riscosso un notevole interesse ma perché è un libro manifesto questo qua che racconta di quello che è successo anche per i ragazzi che stanno crescendo adesso perché sappiano che personaggi hanno popolato il mondo dei loro padri e nonni e anche perché io mi voglio opporre con tutte le mie forze alla letteratura di pura evasione ora sembra che il libro più bello sia quello dove più mi identifico così come sono cioè storie sentimentali d'amore lui ama lei lei non lo ama e queste cose qua cioè libri di intrattenimento si chiamano questo non è un libro di intrattenimento ma un libro che però muove un po' la coscienza ed è per questo che ho voluto spendere due parole per il libro e raccomandarvelo e raccomandare se minimamente riesce a colpirvi qualche passo di questo libro di trasmetterlo anche agli altri perché si possa dire di no a quello che oggi sembra l'unica realtà cioè l'evasione la letteratura d'evasione il cinema d'evasione tutto d'evasione non dobbiamo scappare da nessuno dobbiamo accettare la nostra vita così com'è e accettarci per quello che siamo senza volere essere diversi né migliori né peggiori eccetera quello che siamo ed è bello poter essere così bene io ho finito è un libro molto molto colto molto raffinato in cui usa tantissime citazioni in lingue diverse e ha una particolarità che ci tengo a segnalarvi spesso le spaziature tra le parole non sono quelle classiche ci sono dei bianchi che lasciano lasciano un tempo di sospensione di riflessione ed è un'esperienza particolare ecco non dico altro perché poi comunque io non sono né un letterato né particolarmente competente però mi ha colpito questa come diciamo un espediente anche se vogliamo grafico può servire a a sottolineare certe parole o a dare un peso diverso alle frasi e funziona insomma proverete voi io le chiedo soltanto un'ultima un'ultima cosa perché lei alla fine non ci ha detto che giochi faceva da ragazzo ha fatto qualche volta qualche gioco come la via pal avevate una banda di bambini oppure le ha fatti dopo o si è ricordato dall'Italia quando era in Italia qualche gioco ungherese cioè ci dica una cosa siamo al tuo cattì ho fatto molti giochi e conosco molti giochi e vi dirò che i ragazzi ungheresi si associano molto volentieri cioè in ogni quartiere ci sono gruppetti che stanno insieme tutto il giorno anche a scuola io ero un po' impedito in questo perché? perché avevo un fratello gemello chi ha l'esperienza di che cosa sia un gemello sa che i due gemelli una volta erano solo due adesso sono anche di più fanno una compagnia a sé escludono un po' chiunque io avevo per esempio elaborato un linguaggio con mio fratello gemello che parlavamo tra noi e dopo abbiamo cominciato a studiare italiano anche per questo perché avevamo studiato tedesco ma i nostri genitori qualche cosa sapevano ma quando parlavamo italiano non riuscivano a capire assolutamente nulla e mio fratello gemello e io venuti in Italia parlavamo sempre in italiano per questo motivo perché avevamo cominciato già in Ungheria perché? per elaborare questo si chiama ideoletto in linguistica no? avevamo questo ideoletto nell'italiano e comunicavamo in italiano quando volevamo nascondere qualche cosa ai genitori e quasi sempre volevamo nascondere qualche cosa ed è stato così i giochi che io giocavo prima di tutto calcio ero un fervente giocatore di calcio ero alla sinistra ero molto veloce e ho giocato moltissimo calcio e poi ho giocato moltissimo alle biglie per strada con le biglie di vetro e di terracotta e moltissimo con i bottoni e gonfaci e questi bottoni il gioco dei bottoni era fatto così che sul tavolo mettevamo un grande pezzo di legno largo e grande più che potevamo procurarci che era il campo di calcio lo dividevamo in due disegnavamo la porta eccetera e fabbricavamo con i bottoni dei nostri vestiti dismessi dei giocatori quel numero di giocatori che occorre 11 per ogni squadra che erano fatti così due bottoni erano appiccicati uno sopra l'altro con la pece c'è una mosca che mi distruba e una parte di questi due bottoni appiccicati insieme veniva raschiata con della carta smerigliata in modo da costituire una specie di scivolo e li spingevamo così con le due unghie messe così e un bottone da pantaloni più piccolo era la palla e questi due più grossi messi insieme e spinti così andando con questo scivolo sotto i bottoni dei pantaloni alzavano questo bottone in aria e quindi facevano come la palla che viaggia per aria durante le partite di calcio eccetera e per guadagnarci un po' di più di paghetta come si chiama qua da queste parti i soldini che danno i genitori i nonni lì per guadagnare un po' di più facevamo un campionato un totocalcio su cui potevano fare le scommesse tutti i parenti e per compiacerci mettevano due soldini su una squadra sull'altra eccetera e così noi arrotondevamo i nostri le nostre possibilità di comprare questo quello le cose che comprano i ragazzi della via pal dolcetti eccetera e popcorn eccetera questo lo giocavamo molto spesso poi a un certo punto ho cominciato a giocare a scacchi avevo 7-8 anni perché avevo un nonno nonnastro anzi transilvano che era un accanito giocatore di scacchi ci ha insegnato a giocare a scacchi e noi anche abbiamo cominciato poi in età scolare c'erano dei maestri andavamo in una certa piscina nei sotterranei della quale c'era un maestro che una volta alla settimana teneva lezioni di scacchi andavamo lì a imparare a giocare a scacchi e poi abbiamo costituito una squadra abbiamo cominciato a fare i campionati di terza categoria quarta categoria e ogni domenica andavamo a fare queste gare di squadra con un disappunto feroce della mamma che neanche la domenica quando lei non lavorava poteva vedere i figli la mattina e adesso vi dico una cosa veramente divertente se risulterà divertente anche a voi dunque le squadre di scacchi sono fatte così che sono 12 giocatori e alla prima scacchiera siede il giocatore più forte della data squadra che si misura col giocatore più forte dell'avversario e così 12 mio fratello gemello era bravissimo giocatore stava alla prima scacchiera io alla quarta io ero molto aggressivo come giocatore per cui quando abbastanza presto riuscivo a guadagnare una posizione vincente mi disinteressavo per me era finita la partita e allora perdevo allora mio padre aveva preso l'abitudine che in queste partite a squadre la domenica mattina guardava se io per caso finivo dopo il mio fratello gemello se mio fratello gemello alla prima scacchiera finiva prima di me ci chiamava fuori come per andare al gabinetto e poi mandava al mio posto mio fratello e una volta è successo una volta è successo che sono andato domenica mattina a sonnato a questa partita con una calza blu e una grigia e avevamo i pantaloni alla zuava no? quindi è stato facile quindi ero identificabilissimo e papà fece questo scambio e non sono sicuro che l'avversario non se ne sia accorto perché ci guardava molto incagnesco comunque abbiamo passato molto tempo a giocare a scacchi e poi da bambini piccoli avevamo fatto tutta tutta la sfilza di giochi stare in cerchio camminare in cerchio saltare uno sulla schiena dell'altro eccetera un sacco di giochi abbiamo fatto anche perché allora abitavamo vicino a un parco abbastanza grande e famoso dove si poteva fare tissa calmante dove si poteva veramente trovare sia per giocare a calcio sia per questi salvi che che